Ed eccoci all'ultimo appuntamento, la scuola media statale Puecher di Erba. La scuola alla quale io appartengo, ma gli insegnanti li presentiamo tutti dopo, come vedete anche qui in un forte gruppo. Passo subito, mi sta tarda ora, alla presentazione dei brani di John Higgins, arrangiata da Alessandro Dotti, Celtic Ritual. Seguirà una medley, arrangiato dal professor Maestro Bonelli, medley del Brasile, con brani famosissimi come Agua de Marzo, Flor de Tierra, Mash Canada, Samba de Orfeo, di Giobin, Cicco Barque, Mendez, Bonfà. Dopodiché avremo, arrangiata dal Maestro Ciccarese, Mazama di Jay Chattanei. Buon ascolto! Buon ascolto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.